in quest'opera che tanto fece discutere i critici e il pubblico del tempo al punto che fu accusata di essere indecente scabrosa scandalosa vi è la perfetta iconicità l'autore non vuole lanciare messaggi non intende simboleggiare concetti o alludere a eventi o considerazioni filosofiche medianti allegorie ma ne intende solo rappresentare la realtà come lui la vede vuole produrre una sorta di fotografia composta con i pennelli e i colori ecco quindi le icone di quattro giovani due donne e due uomini in riva alla senna subito dopo una colazione sull'erba fra le icone degli abiti sparsi del cappello di paglia di firenze del pane delle ciliegie dei fichi e degli altri frutti avanzi del picnic l'autore ha invece inserito quelli che nella realtà sarebbero indici infatti il tipo di frutta ci suggerisce che siamo all'inizio dell'estate così come l'abbigliamento sparso a terra la bottiglia vuota ci indica che il picnic è finito non all'inizio il fatto che le due giovani siano la prima nuda e la seconda immersa nelle acque della senna ci indica che fa caldo i codici dell'abbigliamento dei due giovani ci raccontano che la vicenda è ambientata a fine ottocento e che i due sono eleganti dendi cittadini la barca ancorata alla riva suggerisce inequivocabilmente che il corso d'acqua non è un ruscello o un piccolo stagno ma un fiume o comunque una via d'acqua percorribile interessante la scelta di un'inquadratura a campo medio per sottolineare che ciò che interessa l'autore è soprattutto mostrare il rapporto fra i protagonisti come pure la scelta dell'angolo di ripresa ad altezza occhi come se anche il pittore fosse a sua volta sdraiato sull'erba come se fosse uno dei partecipanti alla colazione tale sensazione è acuita dal fatto che la donna guarda dritto verso l'invisibile interlocutore e questo stratagemma permette al destinatario che ammira l'opera di immedesimarsi in manè e di avere un'impressione del mondo così come lui lo percepiva